Era già accaduto nel 2012, si era ripetuto nel 2013, poi nel 2014 e anche l'anno dopo. Oramai si tratta di un copione già visto e rivisto e gli interventi sottoscritti in diversi tavoli tecnici tardano ad arrivare e chi ne piange le conseguenze è la città. Sì, perché mentre si parla di cancellare il gruppo di lavoro del porto, con tutte le polemiche che ne sono scaturite, ancora una volta la situazione in cui verso il porto rifugio fa un'altra vittima. Ieri, giorno di peragosto, è toccato ad un'imbarcazione a vela, battente e bandiera francese, lunga 13 metri, con una famiglia a bordo, rimanere incagliata. E come dicevamo, non è la prima volta che accade e probabilmente non sarà l'ultima. Eccoci qui a Gela nel nostro porto, che così non si può chiamare comunque. E ancora la nostra amministrazione gelese gioca con la vita degli altri, con la vita sia della guardia costiera che delle persone, dei turisti che vanno per mare. E siamo qui a vedere una barca ingagliata con delle persone a bordo che rischiano la vita. E la guardia costiera avvicina, che non riesce ad avvicinarsi in quanto al porto essendo insabbiato, rischia di andare a finire sugli scogli. Fatemi capire un po' voi che spettacoli belli che abbiamo il giorno di agosto, il giorno di ferragosto. Sul posto sono legati gli uomini della capiteria di porto, l'equipaggio è stato trasbordato. Questa mattina sono iniziate le manovre per rimettere in sesto l'imbarcazione. Grazie agli nostri amministratori, sia comunali che quelli regionali, non si prendono cura effettivamente di quello che sta succedendo. Il porto di giallo non è solo un pericolo per chi viene da fuori, ma è sicuramente un biglietto di visita non gradita per i forestieri. In una giornata simile a quella di oggi, con questo maltempo, io vorrei vedere come dovrebbe salvarsi quella famiglia su quella barca. Per un porto inefficiente, i nostri politici comunali, anziché dire barzelletta in consiglio comunale, perché non pensa a fare sbloccare l'iter per realizzare immediatamente questo porto. Il turismo aggela, come lo vogliamo fare? Cosa dobbiamo portare noi a livello economico, a livello di sviluppo di questa città? Lei ne ha chiuso, chiudiamo anche il porto, la gente non viene più. Ce ne andiamo tutti, poi andiamo sicuramente a casa dei vari sindaci o assessori che si sueguano o del grande presidente, o aspettiamo le prossime elezioni regionali per fare iniziare i lavori.